Ciao a tutti ragazzi, sono Roberto Sene e oggi facciamo un nuovo video oggi farò un tour della casa nostra no, proprio la casa della mia nonna no, proprio e vabbè, però c'è da noi un po' di sole guarda da me c'è la porta ok guardate qua ah, c'è un po' di sole troppo guardate qua e tutte le cose la mia bici, la mia macchina il mio skateboard il mio eh, e mia sorella e mia sorella e niente poi la macchina di mia madre e ah, ci vediamo anche i cani ok da vabbè Elettra, vieni qua ecco la qua ecco la qua eccola e qua quell'altro è white questo qua è l'Elettra che bella è è femminuccia come si sente dal nome qua è l'Elettra qua è l'Elettra qua è la camera di mia mia qua c'è il mio cugino ciao qua è tutta la camera qua è tutta il salone qua è tutta la camera dei genitori saluta ciao il mio cugino e qua è una camera c'è la mia cugina va bene entri qua è la sera la va bene allora per tutti oggi ah anche iscrivetevi al canale attivatevi la campanella scrivete i commentari per essere salutati ciao ciao